stiamo simulando una fantastica polpetti di rana pescatrice stiamo simulando una festa rana pescatrice alla senape e merluzzo no polpetti di rana pescatrice e merluzzo senapato non capisci un cazzo come al solito e la cosa è incredibile perché noi simuliamo una festa cosa c'è di più bella una festa se non portarsi un 2 switch se non portarsi un 2 switch e giocare all'aperto devi indovinare quante miglie ci sono all'interno del joy con interno quindi provo anche l'h di rambo però sei messo bene perché io sono una ragazza e tu sei l'obeso quindi quindi è preciso almeno io posso quindi posso copiare è fighissimo ecco quindi non finirà mai tendenzialmente poggialo se cambi di nuovo sei una merda se cambi di nuovo sei una merda ma chiaramente pierpaolo avrà vinto lo sai qual è il problema hai ragione il problema è che quando bisogna contare le palle sei un campione è quello il problema c'è ragione è vero mi sbaglio sempre mi devi guardare guardate le vostre mani mentre mungete appena il latte inizia a venire fuori lo senti il latte che viene fuori senti la mucca che mungge che verso fa la muggisce stai aumentando il ritmo io schizzo tantissimo io non sto schizzando per niente il tuo vibra si vivra tantissimo secondo me ho fatto 40 litri di schizzo vediamo un po' chi vince no mamma mia sei bicchieri sono proprio un campione il dominio è proprio incredibile ma che dominio ne hai vinta uno ah dobbiamo anche ripetere ah no questo ci fa vedere quanto ti ho rotto il culo ah beh c'è un momento che mi hai superato guarda ho sbagliato sul finale cioè c'è stato a un certo punto che c'è stato se ti è partito il berserk della mungitura no hai vinto cazzo guarda era arrivato guarda che culo distrutto ma perché culo? perché culo? ma perché chiaramente culo? ma scusami io ho detto è culo e non c'ha senso tu mi puoi rispondere è arte scusa però eh perché la mia è arte no aspetta è vero che non ha senso di cui è culo ma tu non puoi rispondere è arte perché veramente c'è sbroglio catene è tutto tranne che l'arte adesso però mi qua ci vorrebbero i primi piani fammi sentire aspetta spingere faccio un primo piano in posizione che cosa devo fare? ci siamo guardati negli occhi? devi mettere la bassa e devi mettere il braccio così perché? perché nella scena c'è il braccio così mettetevi faccia a faccia in posizione sembra che ti defica eh è stato più veloce te perché sei partito con l'F di fuoco eh sì sei stato più veloce te questa era in dubbio questa è qui che perdi la partita questa lo sai che si capisce? che tu sai come diceva l'F di fuoco è vero è vero? è vero? ti però rimane fatto che con due assolutamente mi devi convincere a ribaltare no devo ritir- ah perché sono io che ho 99 tu mi devi convincere- e come faccio a far ritirare te? chiedi lo nintendo no vabbè ho capito adesso quindi devo dire guarda che sono veramente tanti anzi sono veramente pochi vabbè vai avanti va che è meglio quindi è sempre un gioco di culo anche quello e questo è incomprensibile per me non è neanche di culo perché non ha se sì è di culo cioè vabbè qua siamo veramente alla follia totale comunque vorrei dire che comunque domino non vale se mi spingi lo ti sto toccando mi stai spingendo per me fissatevi intensamente anche questo fa parte dell'allenamento fine hai vinto e ho vinto ma non si capisce perché ma perché ma perché guarda ma sei sempre te che ti si rompe ah ero un secondo dalla rottura hai fatto qualche cavolata fammi vedere guardalo al photo finish cioè vabbè ti rendi conto proprio stai toccando il mio joy con Alessio non toccare il mio joy con Alessio stai toccando il joy con lo senti che ti sta avvisando vabbè continua a toccarmi il joy con dai niente peccato peccato Alessio mi dispiace no d'altra parte chi strafa non co no lo stai girando troppo veloce Alessio Alessio è rischiosissimo questa rotazione così rapida è rischiosissima Alessio fai come vuoi se vuoi perdere hai fatto la tua scelta non ce la fai Ale ma quando lo appoggi succede qualcosa no troppo troppo movimento dai lo vedi che stai muovendo tantissimo Alessio peccato peccato mi dispiace mi dispiace mi dispiace la barba lì Ale ma non ci potrò mai arrivare mi devo randere qui tipo è incomprensibile vabbè non ho del culo pure qua 100% mi sono raso completamente il completamente raso guarda completamente ti rendi conto guarda ma tu hai visto dove mi devo randere mi devo randere qua basta e basta Alessio dai però ricalibriamo ma che calibriamo ti ho rotto il culo a lei che vuoi calibrare ci ho calibrato ho rotto il culo ai vostri posti c'è la falsa partenza c'è la falsa partenza perché l'hai presa te? bell'applauso ma l'ho presa ho alzato io una cosa un'ora prima no cioè è chiaramente ripreso guarda guarda probabilmente hai alzato nel momento sbagliato no vibrava guarda ero nettamente in vantaggio nettamente in vantaggio sono me una cazzata sto poco bene addirittura hai fatto parla che corsa sul posto Alessio tra l'altro corri tutte le mattine gira un po' la testa per evitare di colpire se mi spavano mia madre mi ha fatto le braccia lunghe che cazzo vuoi? e non solo le braccia perfetto vai e ora faccia a faccia colpite prima dell'avversario via montante gancio ah sbagliato gancio è sbagliato sbagliato diretto montante diretto dai oia 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 sempre te mi hai preso montante cioè ti rendi conto? montante mi hai preso solo te lo devo come poi ho fatto anche è chiaramente sbilanciato è chiaramente sbagliato disegna nooo il maggiore ma sei masco il trucco sta nel non 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 si mi hai preso mi hai preso no no poi Possa, c'era. mi è caduto a te? non male non si può fare 2, 3 scatenatevi non si sa perché ti dà punti? sei albano stai avendo un ictus e vinci te cioè non ha senso sia il ritmo che il performance ho fissato in testa no sono tutti 2 C guardami negli occhi via con la musica 1, 2, 1, 2, 3 e 4 via! stop 1, 2, 3 e 4 via! stop 1, 2, 3 e 4 via! ho sbagliato cazzo qua ho chiaramente vinto vabbè qua c'è era il doppio ho fatto il doppio guarda non ho il senso del ritmo no perché ti ho battuto sia il movimento è il ritmo che ho sbagliato mamma mia perché io non sono come te che ho origini perché io sono il figlio di John Travolta hai vinto è incredibile è incredibile hai vinto 9 a 5 e chiaramente tutti i giochi in cui non c'era l'abilità ormai ti doppio hai preso 3 morti guarda perché dura tantissimo perché basterebbe scambiare gli switch i joycon e già scambiare gli switch si si vai 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 ciao